Pantani è partito al tredicesimo chilometro della salita, al tredicesimo chilometro, ha fatto subito il vuoto. Sì, siamo qui nella discesa, siamo nella parte conclusiva della discesa, c'è sempre Pantani che fa il ritmo. Il rientro fenomenale di Savoldelli. Savoldelli che adesso cerca di staccare il quartetto. Si porta tutto solo l'eseguimento di Missaglia. Se riesce ad arrivare su con 30 secondi sul gruppetto di Pantani, secondo me non lo prendono più. Tre chilometri a corso da campione. Paolo Savoldelli.